Ed eccoci qua ritornati in diretta con Paola Pallotta e la rubrica che è quella che con Giorgio si chiamava il parere dell'esperto, quindi andiamo a rispondere alle domande che ci fate. Vi ricordo che per scriverci non dovete far altro che scrivere a infochiocciolamass4.it, come dico sempre chiedeteci qualsiasi cosa, scriveteci e vi posso solo dire che per me è un grande piacere essere qui con Paola e adesso lancio la sigla di questa nuova rubrica che si chiama Donne e Finanza. E allora Paola partiamo con la prima domanda della rubrica Donne e Finanza, ovviamente la domanda è di una nostra amica e adesso la vado subito a condividere e la nostra amica di nome Caterina che ci dice Ciao masquattro, sono Caterina, ho 29 anni, un lavoro a tempo indeterminato e una mia amica assicuratrice mi ha proposto un fondo di pensione integrativa. Faccio bene a sottoscriverlo? Dipende se vuoi perdere questa amicizia, insomma non lo so, a parte gli scherzi, lasciamo a Paola la domanda e io adesso la leggo seriamente. Quindi questa amica gli ha proposto un fondo di pensione integrativa e Caterina ci chiede, faccio bene a sottoscriverlo? Ho un po' paura a versare lì anche il mio TFR, faccio bene a tenerlo da parte o lo mischio diciamo con questo fondo pensione? Dalle carte che mi ha lasciato la mia amica ho capito che devo anche scegliere come investire questi soldi, ma non ho capito bene cosa sono le diverse linee che ci sono da scegliere. Mi ha aiutato a capire meglio? Caterina, siamo qua posta, la tua domanda ci riempie di gioia e quindi io non posso far altro che stare zitto e lasciare la parola a Paola. No, grazie Marco, grazie mille. Posso dire una cosa su donne e finanza? Io spero tantissimo, veramente un inciso ma continuerò a ripetervelo, perché la finanza non è questo mondo astruso, difficile, complicato, la finanza può essere molto bella, assolutamente interessante, molto divertente e diciamo che la passione che appartiene a me, spero tantissimo, piano piano diventi un piccolo contagio per le persone che ci ascoltano, per cui... Donne e uomini, assolutamente. Però come dicevi giustamente tu, le donne hanno, le mie amiche, che normalmente io poi sgrido, sono restie a volersi interessare a questi argomenti e io le bacchetto molto, per cui bacchetterò anche tutte le nostre amiche allargate, perché è assolutamente un argomento che è molto interessante, su quale è molto interessante avere comunque delle opinioni ed è una parte cruciale della nostra vita insieme alla nostra salute. Vabbè, basta, mi fermo. Se ci pensiamo Paola, la finanza vera, quella che conta, è in mano alle donne, perché abbiamo la presidente della BCE Christine Lagarde e abbiamo Yellen, che adesso è insomma capo di Stato americano, ma è segretaria, diciamo il ministro del tesoro, se vogliamo chiamarlo così, è un termine un po' diverso americano, ma è stata anche lei presidente della FED per tanti anni, quindi voglio dire, le donne hanno ruoli di grande rilevanza nel mondo della finanza. Assolutamente, siamo noi che siamo un po' pigre, noi donne comunque lavoratrici o di casa, ma insomma di questo ne riparliamo. Però grazie intanto Marco di questa rubrica, che mi piace molto e assolutamente si rivolge anche a un pubblico maschile. Non sarò certo io a fare discriminazione. Perché se invece di Caterina ci fosse Caterino di 29 anni, le risposte sarebbero esattamente le stesse. Direi di sì, assolutamente, direi di sì. Allora, in questo caso la risposta è che è molto interessante quello che la tua amica ti propone. Allora, Caterina non ci dice tanto, non so se c'erano altre informazioni nella mirca arrivata, ma insomma, allora il punto iniziale, la prima risposta è faccio bene? Assolutamente sì. Hai 29 anni, hai un percorso di vita lavorativa molto lungo davanti a te, la tua pensione è decisamente molto lontana e di conseguenza è giusto iniziare a preoccuparsi di creare una integrazione a quella che sarà poi la pensione statale dell'Inps, che noi comunque in Italia siamo già fortunati ad avere e rispetto ad altri paesi in realtà non è per tutti così. Quindi noi abbiamo già una base, ma certamente quella base, soprattutto a tendere, non potrà rappresentare, non potrà garantire essere così significativa come è stata in passato e garantire, no? Di essere completamente sufficiente. Per cui, avviare una pensione integrativa? Assolutamente sì. Dicevo, Caterina non ci dice che lavoro faccia, non importa, però, allora, la pensione integrativa, diciamo che, ci parla di un'amica assicuratrice, per cui, diciamo che per integrare la propria pensione ci sono due pilastri, due macro-categorie, quindi i fondi pensione negoziali appunto di categoria, per cui se Caterina fosse aderente ad un determinato contratto collettivo nazionale che è agganciato ad un fondo pensione negoziale di categoria, non so, medici, architetti, avvocati, insomma, categorie definite, beh, sicuramente avrebbe senso per lei prendere in considerazione il fondo pensione di categoria, quindi il suo, che è ad adesione collettiva e che, diciamo, è a sua disposizione in quanto aderente a quella categoria. Se così non è, e probabilmente non è così, perché altrimenti Caterina ce l'avrebbe forse detto, allora si apre il mondo del terzo pilastro, che è quello dei fondi pensione aperti, e i fondi pensione aperti sono appunto a disposizione di tutti, possono essere sottoscritti sia su base collettiva che individuale, collettiva intendo dire che nel caso dei fondi pensione aperti vuol dire che l'azienda ha un accordo per tutti i suoi dipendenti con un determinato fondo pensione, ma laddove non fosse neanche così, i fondi pensione aperti sono anche ad adesione individuale, per cui il singolo può decidere di attivare, di sottoscrivere giustamente un fondo pensione. Allora, siccome l'amica è assicuratrice, c'è da dire che il mondo del terzo pilastro, quello appunto dei fondi pensione aperti, si compone di due cose, due anime, l'anima appunto del fondo pensione e quella dei PIP, piani di investimento pensionistico, che sono uno strumento assicurativo che in tutto e per tutto funziona come il fondo pensione, che sono emessi e gestiti da una compagnia di assicurazione e che quindi sono, diciamo, un'alternativa. Dico subito di fare attenzione ai PIP, perché tipicamente il PIP ha dei costi che sono superiori rispetto ai fondi pensione aperti. Per cui, siccome parliamo di investimenti che veramente ci accompagnano per tutta la vita, quindi un fondo pensione attivato oggi, poi dopo continuiamo a contribuire a questo fondo pensione almeno per 30-35 anni fino appunto al raggiungimento dell'età pensionabile, beh, dobbiamo fare attenzione ai costi che paghiamo strada facendo perché questi sono un impoverimento che nel tempo diventa, crea una, come dire, una differenza molto forte tra i risultati dell'uno e dell'altro. Per cui, la prima domanda è sì, fai benissimo sottoscriverlo, attenzione, cerca di capire con la tua amica se lei ti propone solo un PIP, un piano di investimento pensionistico, fai attenzione e chiedile esattamente quanto costa perché potrebbe essere molto più costoso di un fondo pensione aperto. Quindi questa è la prima cosa. La seconda invece, Caterina ci chiede, e ti chiede, ma il TFR cosa faccio? Lo tengo da parte o faccio tutto un mucchio? Assolutamente tutto un mucchio. Assolutamente tutto un mucchio, nel senso che ovviamente in questo caso la tua azienda deve essere d'accordo, per cui se non c'è adesione collettiva, quindi se non è l'azienda stessa che aveva fatto l'accordo col fondo pensione, ma tu hai il tuo fondo pensione, tu devi chiedere all'azienda di poter, hai questa facoltà e lo puoi fare, di poter versare il tuo TFR. Cos'è il TFR? il trattamento di fine rapporto, quindi è no, quel che nasce proprio a fini pensionistici e di tutela nel lungo termine. È questo piccolo capitale, piccolo inizialmente, ma che si cumula anno per anno e circa il 6,91% della retribuzione anno alla Lorda, se ricordo bene. Quindi è una componente che ogni anno l'azienda accantona e appunto normalmente può rimanere in azienda, tuttavia ovviamente la rivalutazione che lo Stato richiede di effettuare alle aziende rispetto a questo capitale che viene conservato nel tempo è una rivalutazione che sia un collegamento con l'inflazione remunera un po' ma non così tanto, per cui su un orizzonte temporale per una persona giovane così lungo far confluire anche il TFR che ripeto è una cifra comunque interessante farlo confluire nell'ambito del fondo pensione e quindi metterlo a lavorare dico io per tanti anni beh alla fine può fare una differenza importante sul montante finale. Ci sono anche dei vantaggi fiscali insomma ci sono tante ragioni per le quali vale la pena di considerare questo tipo di versamento non ultimo anche il fatto che chiaramente insomma immagino che Caterina sia contenta del suo lavoro e lavori per un datore di lavoro sano solido è forte però in generale chiaramente il TFR versato nel fondo pensione si separa dai beni aziendali è separato comunque c'è comunque una tutela una garanzia anche se rimane in azienda ma se è già fuori è sicuramente molto interessante tanto meglio insomma possiamo dire anche se il vantaggio maggiore che se sta fuori teoricamente dovrebbe rendere di più assolutamente dovrebbe rendere di più a patto veniamo alla terza domanda che rende di più ma non è che ok faccio un fondo pensione sono a posto bisogna anche decidere la cosiddetta linea e infatti ci dice Caterina dalle carte che mi ha lasciato la mia amica che è la sua amica assicuratrice ho capito che devo anche scegliere come investire questi soldi ma non ho capito bene cosa sono le diverse linee che ci sono da scegliere mi aiutate a capire meglio insomma Caterina si trova davanti a una scelta di dire ok faccio il fondo pensione ma poi che tipo di fondo pensione faccio e come possiamo aiutarla allora possiamo aiutarla così le linee sono i comparti quindi il fondo pensione ha diverse possibilità di investimento no al suo interno e quindi nel momento in cui appunto aderisco ho la possibilità di scegliere dove effettivamente i miei soldi in che cosa vengono investiti immagino questa marea di carte immagino Caterina disorientata in questa in questo marasma però alla fine le linee di investimento sono poche ancora una volta la logica è le linee di investimento si distinguono a seconda appunto dell'investimento sottostante per cui abbiamo tutti i fondi pensione hanno una linea garantita che è quella che naturalmente ha i rendimenti più contenuti e che ha una una garanzia del capitale investito poi c'è una linea obbligazionaria una o più adesso io in sintesi però le macro categorie sono sicuramente la garantita l'obbligazionaria che investe appunto in in titoli obbligazionari a livello internazionale e poi ci sono le linee bilanciate che acquistano sia azioni che obbligazioni e le linee completamente azionarie quindi diciamo che le macro categorie sono fondamentalmente queste il perché della logica beh perché naturalmente come sempre pensiamo al tempo cioè il tempo è quello che guida no perché è legato agli obiettivi è quello che guida le scelte di investimento Giorgio ce l'ha spiegato tante volte no da gestore parlando di asset allocation per cui per Caterina 29 anni con una contribuzione potenziale per i prossimi 35 anni oggi l'investimento giusto è sicuramente un investimento completamente azionario nel corso del tempo quindi man mano che la scadenza e la possibilità per Caterina di usufruire del fondo pensione quindi no di tradurre nella rendita e nel capitale o solo nella rendita a seconda di quello che si sceglie alla fine a quel punto man mano che si avvicina a quella data sicuramente in questo senso è importante ridurre il livello di rischio quindi ridurre la possibilità che nel breve termine forti oscillazioni modifichino il mio montante finale ma oggi sei talmente lontana dalla scadenza che sicuramente il fondo pensione deve essere considerato per una persona così giovane solo azionario in più ti posso dire che probabilmente oggi il fondo pensione ti dà anche la possibilità di scegliere un fondo con la desinenza ESG anche di questo Massa ne ha parlato quindi ESG che sta per Environmental Social and Governance è una diciamo un'etichetta magari ne parleremo prossimamente con più approfondimento ma insomma individua un investimento sostenibile per cui a maggior ragione un investimento così ad ampio respiro così a lungo termine insomma facciamolo nella direzione giusta per cui magari è importante poter scegliere questa declinazione benissimo Paola io ti ringrazio veramente tanto per queste risposte molto articolate io credo che Caterina abbia un quadro molto chiaro diciamo per riassumere proprio in maniera estremamente serafica possiamo dire le domande di Caterina faccio bene a sottoscrivere il fondo pensione sì faccio bene a tenere da parte il TFR no lo devi mettere tutto in un mucchio quale linea scegliere beh sei molto giovane beata te e quindi hai tanti anni davanti e perciò azionario 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 se poi vuoi metterci anche questa componente ESG tanto meglio diciamo che in questo modo possiamo così riassumere le domande di Caterina che ci hanno dato la possibilità di fare un bel ripasso sul tema dei fondi pensione che è un tema molto importante per donna finanza ma anche per uomo finanza per bambina finanza per tutti insomma è un tema che riguarda veramente veramente tutti e io colgo l'occasione prima di chiudere questa rubrica e andare ai saluti finali insomma di dire che ci potete scrivere farci anche delle domande in diretta se riusciamo vi rispondiamo e colgo anche l'occasione Paola per portarti i saluti di Nicola che ci ha scritto ha detto ciao Paola in bocca al lupo grazie Nicola per questo incoraggiamento però come ha fatto Nicola oltre a un in bocca al lupo potete anche farci qualsiasi domanda quindi per oggi con la rubrica di donna in finanza è tutto mettiamo la siglettina di chiusura e poi ci salutiamo grazie e allora grazie a tutti coloro che sono rimasti qui in diretta per questa nostra consueta oretta del mattino con le nostre tre rubriche saremo presentissimi con le nostre tre rubriche anche domani quindi rassegna stampa parere dell'esperto e ancora donne finanza perché domani non ci sarà Gerry cambio insomma Gerry passa mi scalzo tutti capito uno alla volta dai commenti che stanno arrivando insomma anche Carlo ci ha scritto per farti complimenti sembra che la tua presenza sia più che gradita e come non avevamo dubbi ovviamente no però a parte gli scherzi in via eccezionale domani non ci sarà l'angolo del trader e quindi Gerardo Murano ma ci sarà ancora Paola qui con noi a commentare le notizie della rassegna stampa con il parere dell'esperto poi un'altra domanda che abbiamo già pronta di Donne Finanza ma potete scriverci perché sapete che in queste due settimane non ci sarà Giorgio che in questo momento dovrebbe essere sul punto di salpare per per l'oceano e ci sarà Paola ovviamente Donne Finanza abbiamo già qualche domanda di donne se donne volete scriverci ci fa piacerissimo ma risponderemo anche domande di uomini quindi non vorrei che adesso gli uomini si spaventano oddio non ci considerano più ci mancherebbe ci mancherebbe altro allora non mi rimane Paola che veramente ringraziarti di cuore per questo splendido esordio e ci vediamo domani mattina grazie buona giornata a tutti a domani a domani l'appuntamento è anche per voi domani 8 e 30 ciao ciao